Beni per 2 milioni di euro sono stati confiscati dall'addia di Caltanissetta a un imprenditore con diversi precedenti alle spalle e considerato vicino a Cosa Nostra Nissena. Secondo la ricostruzione investigativa, l'imprenditore, del quale non è stato fornito il nome, aveva costruito il proprio tesoretto grazie alla sua vicinanza e agli ambienti mafiosi e avrebbe anche acquisito una certa pericolosità sociale, tanto che il Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza per due anni. Nel dettaglio, gli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia hanno sequestrato su provvedimento dei giudici sette società di cui una con sede all'estero e relative quote societarie, sei fabbricati, due terreni, dieci conti correnti bancari e postali e un'autovettura.